La famiglia umana, come ricorda Papa Francesco, ha smarrito la gioia della pace. Il 7 ottobre del 2023 la Terra Santa, e non solo, è precipitata in un vortice di violenza e di odio mai visto e mai sperimentato prima. In questi 12 mesi abbiamo assistito a tragedie che per la loro intensità e per il loro impatto hanno lacerato in maniera profonda la coscienza e il senso di umanità. La violenza che ha causato e sta causando migliaia di vittime innocenti ha trovato spazio, come ha sottolineato anche il Cardinal Pizzaballa, nel linguaggio e nelle azioni politiche e sociali. Lunedì 7 ottobre, giornata di preghiera e di digiuno per la pace, il Vescovo Pirantonio Tremolada ha guidato il rosario in cattedrale. Abbiamo insieme recitato questa preghiera molto bella e ci sentiamo spiritualmente uniti, in particolare al Patriarca Pier Battista Pizzaballa che l'ha composta. Ci sentiamo uniti a tutti coloro che vivono quella terra che il Signore ha visitato e dove è nata la Vergine Maria, che noi chiamiamo la Terra Santa. Ci sentiamo uniti anche a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo per la guerra in atto in tanti luoghi dei cinque continenti, compreso il nostro continente europeo. C'è uno solo che può abbattere il muro dell'inimicizia. L'abbiamo ascoltato nella lettera ai Filippesi. Colui che, stendendo le braccia sulla croce, è diventato la nostra pace, il Signore Gesù Cristo. A Lui ci affidiamo per intercessione della Beata Vergine Maria e chiediamo questo dono preziosissimo della pace. Tutti, cittadini e istituzioni, siamo chiamati ad un impegno per la giustizia e per il rispetto del diritto di ciascuno alla libertà, alla dignità e alla pace. Abbiamo pregato, agli occhi del mondo la preghiera è la risposta più debole al bisogno della pace. Ma noi sappiamo che colui che può donarci la pace può essere raggiunto ed è raggiunto dalla nostra preghiera.